Parliamo del Pescara perché è ufficialmente partita la nuova stagione, prossimo campionato di Serie C per i Biancazzurri allenati da Gaetano Auteri. Oggi il primo allenamento, il tardo pomeriggio di oggi, a Palena, sede del ritiro precampionato dove i Biancazzurri resteranno sino al 27 luglio. Tra i convocati c'è anche Marco Pompetti, primo allenamento dunque per il talento pescarese classe 2021 anni che torna a Pescara, era stato acquistato dall'Inter nell'estate 2017, con l'Inter ha vinto praticamente tutto nelle giovanili con Stefano Vecchi allenatore, soprattutto uno scudetto nel 2018, è una Viareggio Cup. Torna a Pescara con la formula del prestito con premio di valorizzazione, convocati 27 calciatori, nella lista non figurano Gennaro Scognamiglio in procinto di firmare con l'Avellino. Crecco ufficiale al Vicenza, prestito con opzione di riscatto e Masciangelo ad un passo dal Benevento, i nuovi sono il terzino Zappella, l'attaccante dei Marchi è appunto Marco Pompetti. Parecchi giovani provenienti dalla formazione primavera, Longobardi, Belloni, Blanuta, Chiarella, D'Aloia, Mercado, Sorrentino e Veroli, mentre possiamo seguire appunto le prime immagini che ci arrivano dell'allenamento di oggi, questo pomeriggio, del tardo pomeriggio di oggi, dallo stadio comunale Angeli di Palena. Per quanto riguarda invece le altre news di mercato, vi abbiamo raccontato del vertice col Monza per Giozzi e Armellino, ebbene Giozzi in uscita sì dal Monza, resta una pista complicata, l'ingaggio è fuori budget, ma non è affatto tramontata, i due club si riaggiorneranno all'inizio della prossima settimana. Discorso diverso per il 32enne Marco Armellino, che Autè riconosce dai tempi di Matera, stagione 2016-2017. L'esperto centrocampista, che ha vinto due campionati in C con Lecce e Monza, è assistito da Tullio Tinti, stesso agente della denese Sorensen. Il gradimento di Armellino non è in discussione, le parti sono già al lavoro. Sembra perdere quota, centrocampo la candidatura di Derisio per la difesa. Si parla da alcuni giorni di Filippo Dellicarri, della Juve, cresciuto nel vivaio Biancazzuro classe 1999. Un'esplicita richiesta del tecnico Gaetano Auteri, che avrebbe voluto portarlo con sé già due anni fa in Serie C a Catanzaro. Su Dellicarri però c'è anche il Cittadella, squadra di B, situazione di stallo per il ruolo, altra opzione. Tornata calda nelle ultime ore, Stefano Scognamillo, 27 anni, di proprietà dell'Alessandria, già con Auteri, a dire il vero, per due anni, dal 2016 al 2018 a Matera. Per Nzita ci sono un paio di richieste che arrivano dalla Serie B. Nzita dovrebbe, anzi cambierà al 90% maglia.